Grazie a te che mi permetti di aiutarti. Ecco perché non devi dire tu grazie a me, ma io ringrazio te con il mio motto che Dio te ne renda merito. Grazie Rino. Allora, credo di non aver saltato più nessun patrocinante. Partiamo già con l'Associazione Italiana Persone Down, AIPT se è presente, almeno mi alza la mano che io la vedo a colpo d'occhio. Allora vi invito a prendere la sacca con gli attestati, l'attestato di partecipazione, le medaglie. Mi prendi una medaglia, la voglio far vedere. Se ne abbiamo una in più, magari la faccio vedere a parte. Allora, questa medaglia che io adesso consegnerò e vi chiedo la forza e la costanza di applaudire ogni volta che ne viene ritirata una di borsa, rappresenta... Sì, stanno salendo. Associazione Italiana... Prego, salite ragazzi, tanto siete solo voi due. Loro l'hanno aderito due giorni fa, ragazzi. Un applauso per questa, visto che siete voi due, ve la consegno. Voi avete vinto oggi, insieme a tutti gli altri. Grazie, grazie di averci onorato della vostra presenza. Fatevi baciare. Signori, subito dopo l'Associazione Italiana Persone Down, ritira questa, portala ai tuoi, al tuo referente. Grazie, adesso arriviamo subito. Allora, ASD Tennis Tavola Foggia Luigi Siani. Ci abbiamo al Tennis Tavolo. Ok, mentre arrivano... Associazione Italiana Tennis Tavolo, vi invito a ritirare il premio. Ok, allora andiamo avanti. Andiamo a quello seguente. Stanno lontani, adesso arrivano. Ok. Arda, diversamente abili, è dovuta andare via per un malessere, quindi la consegneremo dopo all'Arda, in seguito. Datemi l'altra, veloci, 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 veloci. No, comunque non andate via perché ci tengo ad una cosa. Lina, non mi guardare male. Non mi guardate male, vi autorizzo a pestarmi a sangue dopo. Dobbiamo farlo. Non andate via, datemi tutto quanto. Allora, UAL, Unione Amici di Lourdes, Foggia. Pretendo un rappresentante a ritirare l'attestato di partecipazione alle medaglie. Subito a seguire. Facciamo una foto con l'UAL. Ok, benissimo. Antonio, benissimo. Andiamo a seguire, veloci, 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 veloci. ABC, Lina. All'ABC la darei alla fine, se no mi scappa via. Lina, te lo do se mi prometti di non andare via, Lina. Signora Lina dell'ABC, veloce. Ok. Allora, tennis da tavolo pronto, è arrivato. Signore, è anche una delle associazioni storiche di Foggia. Grazie, Lina, una foto. Ok. Ok. Grazie, qui c'è il plico con medaglie. Ti raccomando. Lina, grazie. Non mi dire ciao perché devi farti la foto. Lina, Lina la foto. La foto per tutti. Grazie tesoro. AFAD. AFAD. Associazione Familia Downy, Bella Latroccolo. Mirate. A presto. Fermate. Non mi... Circo lo schermistico da uno. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto. Circo lo schermistico da uno. Ecco, il dottor Tanzi. Non andate via per la foto, per favore, perché è uno dei più bei ricordi che abbiamo. Dottor Tanzi, circolo schermistico da uno. E la facciamo straordinariamente abili. Sì, se non più, ritira la stessa persona per più di uno. Dopo, gli chiedo pazienza, proprio che faremo nella foto di gruppo, ci saranno tutti. Un attimo, un attimo. Piscina. Piscina, allora, piscina stocca azzurro. Sto straordinariamente abili, non con... Schermistico è questo, schermistico è questo, ok? No, 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 questa è un'altra associazione. Scusateci. Allora. Arrivo, arrivo, arrivo da te, arrivo da te. Tra un attimo, aspetta qui, aspetta qui, aspetta qui, raggiungo il cuore. Un attimo. Allora, circolo schermistico da uno. Eccolo qui, ci siamo, perfetto. Benissimo. Ok, questo è vostro. Ok, datemi questo qui. Allora, piscina azzurra, straordinariamente abili. Dove abbiamo straordinariamente abili? No, non andate via. Arriviamo, non andate via, per favore. Non abbiate fretta, dobbiamo fare la fila. E poi, la foto tutti, fatemi questo regalo. Chiedo scusa, è l'unico regalo che vi chiedo. Una foto di gruppo con tutti quanti. Perdonatevi. È il pubblico, non ho chiesto soldi, ma la foto la pretendo. Arrivo, arrivo. Straordinariamente abili. Non c'è, passiamo avanti. Aspettate, per favore. Ragioni del cuore. Non dovete salire se non vi chiamo. Adesso abbiamo... Arriviamo. Arrivo, non ti arrabbiamo. State con, state con, non mi muoio. Guardi, ho la foto alla fine. Dai, pazienza e dieci minuti. Vai, non ti preoccupare, va bene. Mi date qualcosa? D'accordo, ciao. Ragioni del cuore lucera. Ragioni del cuore lucera. Non riempite. Ok. Ragioni del cuore lucera. Ok, no, tranquillo. State qui. Il nostro amico ha quattro zampe. Signora, benvenuta. Fate questa foto. Foto di gruppo. Vieni, vieni con me, piccola. Ok, veloce. Ci fanno bello. Ok. Foto, foto, girati, girati. La stampa ci reclama. Fate veloci fotografi. Ok, via, 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 via. Io via tutti, si dice nel percorso. Tennis da tavolo, salite. Ci siamo. Abbiate pazienza. Tutti. Tennis da tavolo, foggia, Luigi Siani. Un saluto da parte. Grazie. Mio padre. Ecco, prego. Fallo salire che lo consegna un prezzo. Cirico 21 c'è? Alzi la mano Cirico 21. No, passiamo avanti. Passiamo avanti. La sensazione cinofile ce l'abbiamo? Filo del sorriso ce l'abbiamo? Cinofilo Orta Nova. Un attimo. Allora, grazie Franco, scusami la concitazione. Facciamo questa foto. Piccolo. Grazie, questo è un pensiero per voi. Scusaci se non siamo perfetti. Comunque non andate via, Franco. Allora, filo del sorriso. Signori, un applauso al vicepresidente Colazzano. C'è la gaciana dei clown. Vicepresidente Cusmai della provincia di Coggia, che ha fatto, credo, un po' di capriole per essere qua. Guadagnate la scena. Prego, prego, scusi la mano. Seduti, Michele, filo del sorriso. Michele Vigliorio, dove sei? Michele! Non vedo il tuo berretto. Sono dei casinari incredibili questi. La gaciana della felicità. Oh, Presidente. Allora, Rossella, dov'è? Rossella, Rossella. La regina dei pagliacci, dov'è? Questa signora strada, il Presidente del filo del sorriso, che insieme al Sino Vistonorella, che è un facente invece, un supplente della provincia di Coggia, invece abbiamo, signori, il Vicepresidente della provincia Cusmai. Un applauso e un ringraziamento per l'impegno a riuscire ad arrivare. A Cusmai accetti il nostro pensiero da portare all'intera provincia. un piccolo pensiero, speriamo di lasciare un segno tangibile. Io sto per svenire, perdonatemi. Ok, giusto due parole, mentre loro tolgono, liberano la scena. Grazie a voi, Michele. Grazie a voi tutti. Grazie, scusate il ritardo. Sì, 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 sì. Intanto invito la famiglia Mansi ad avvicinarsi al palco, a salire. C'è nel frattempo che il dottor Cusmai ci onora di un saluto breve. Sì, sì, un saluto da parte dell'ente provincia, del Presidente Miglio e di tutto il Consiglio provinciale. Quando queste strutture vengono utilizzate per questi momenti così importanti, questa cosa qua ci riempie di onore e ci riempie il cuore. Grazie. Grazie a voi, grazie per la sintesi estrema. E' stato efficacissimo. Famiglia Mansi, un applauso ad una famiglia che non aveva una bandiera di un'associazione. Grazie, incoronata. Famiglia Sinisi, anche. Ops. Prego, prego. Hanno fatto un sacrificio pazzesco per essere qui con noi. Signori, una famiglia, il cuore della società, la famiglia italiana. Grazie, piccola. Un saluto. Di auguri a tutti. Brava, amore. Grazie. Chi abbiamo come associazione? Stanno ordinariamente abili? C'è? C'è, non c'è, non c'è. Sono andati via. Ok, passiamo avanti. Chi abbiamo? Ancora, ancora. Datemi uno, uno a caso. Guardie ambientali, se ce l'avete. Cammina con noi. Vincenzo cammina con noi, può aspettare? Aspetta, cammina con noi. Cisa, Cisa Antonio. Ciclo amici, FIAB ciclo amici, se ci sono. Ok, guardate. Un clown ambulante. Grazie a te, grazie a te. L'ho chiamato presidente per non so quante volte. Velocemente fateci un saluto. Mentre saluti facciamo la fotografia. Di ciao alla mamma. Ciao alla mamma. Adesso la vado a trovare, una mamma di noi. Grazie, tutte le nostre mamme ci aspettano. Un bacio a tutti e grazie per la giornata. Accetta questo pensiero da parte nostra. Cisa, ecco qua Antonio, il grande Antonio Pagliana della Cisa, che ha fatto tanto per il GUS per noi, perché è normale essere speciali. Ti grazie, diciamo mamma Antonio. E purtroppo mamma mia non c'è più, però sicuramente... Sono lì che può fare queste cose. No, no, sicuramente è contentissima che io sia qui oggi con voi. Grazie a te Antonio e a tutti i tuoi ragazzi. Accetta questo pensiero. Grazie. Diamoci questo grande bacio. Abbiamo, chi abbiamo? Città dei Colori. Eeeeh! Save the Children a seguire. Città dei Colori, grazie per essere stati qui con noi. Prego, al volo, al volo. Allora, la Città dei Colori vuole invitare tutti i partecipanti al quadrangolare che si svolgerà il 9 giugno al Palasport di San Severo. Questi nostri atleti scenderanno in campo. Un quadrangolare con quattro squadre di basket. Siete tutti invitati. Io ovviamente vi girerò l'invito a tutti quanti. Sì, una cosa veloce. Diciamo a tutti. Ciao a tutti quanti. E voglio che ci siete tutti quanti a vedere la partita. Mi piacerebbe che state tutti. E noi faremo di tutto per esserci. Un applauso. Accettate questo pensiero. Le medaglie sono tutte dentro. Le le toco con cuore. Avete vinto. Ok, adesso a chi tocca? Volevo fare un grazie a Andonella Magnifico che ci ha portati qui. Grazie a Andonella. E voglio ringraziare tutto lo staff della Città dei Colori. Grazie Andonella. Ciao. Allora, adesso è arrivato il momento dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Salvatore Gallo che ha fatto tanto per fare tutto, ha fatto tutto il possibile per organizzare. C'eravamo un po' preposti anche col Torbal, invece non ci siamo riusciti, ma siamo riusciti a mettere insieme i giocatori di showdown. E poi hanno fatto anche l'enorme sacrificio di portarlo all'aperto. E guardate, adesso Salvatore sale. Salvatore ovviamente, Salvatore che si dice? Non vedente o cieco? Insegnati. Non vedente. Non vedente. Se c'era Giuseppe... Ma comunque, allora innanzitutto, salve a tutti. Io di dovere voglio portare il saluto del nostro Presidente, il Professor Graziano Infante, che purtroppo non è potuto venire e mi ha detto di salutare tutti i presenti. Ma vi devo dire di più, questa famiglia Staffiero, io la conosco da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, ma non sapevo che avevano questo cuore. Nicola, sei stato grandissimo. Sei veramente speciale, come sono tutti i speciali presenti. Grazie a tutti da parte dell'Unione Italiana Ceghi e Covedenti. Grazie. Troppo buono, troppo buono. Grazie a te, Salvatore. Accetta questa borsa. Grazie, 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 grazie. Un attimo che ci vogliono fare la foto. Poi te la vedi, Salvatore. Salvatore, volentieri.